ci sono già un bel po di domande siamo già dal vivo ok benissimo buonasera a tutti i ragazzi qui a fantoma ciao ciao marco ciao luca facciamo iniziativa ok sound check subito ci dite se si si sente bene vediamo un attimo siete già ultra attivi c'è la sigla quindi c'è la sigla un annuncio aspetta salta annuncio siamo splittati siamo splittati benissimo ciao a tutti ciao mamma mia quanta gente ci metto un po a salutare tutti qua a fantoma aspetta qua c'ho un problema che ho rientro allora aspetta che abbasso il volume di abbassare il volume esattamente esattamente perché se no si sente un po la cosa qui io posso anche ecco così sento anche la mia voce molto bene che bello che bello che bello questa sera gran serata vedo che siete già bel un bel gruppo nutrito come d'altronde si sente benissimo perfetto matteo allora vi saluto un po la tutti quanti come ormai è ed uso fare qui a fantoma quindi c'è claudio muselli nicola l'orgi o iorgi si iorgi dovrebbe essere marshall dave bella c'è la terry mangiafico grande terry la grandissima un abbraccione grosso amici gigi colombo il mio omonimo di cognome ci sono tanti colombo e ultimamente ne vedo tantissimi quindi non proprio originale esatto buonasera a tutti Giovanni Guarino Giovanni Umberto Zubaio lui presenza ormai sempre fissa sempre persone importanti al tuo fantom Marco questa sera diciamo questa settimana è stata veramente una settimana molto ricca e diciamo la concludiamo poi tra l'altro vi dico subito che ho fatto una triplette questa settimana ma dalla prossima ne farò due perché effettivamente immagino che la gente giustamente da questo lo fa una mozione vedo sto guardando il video vedo la tua definizione che è molto più alta della mia non so se è una cosa è una cosa normale perché tu mi arrivi in bassa definizione effettivamente strano perché io te la sto mandando invece in alta definizione con Wirecast a me arriva si arriva un po sgranata cioè mi arriva proprio di default sgranata è normale? ma di solito si di solito si dipende dalla trasmissione francamente cioè di solito si nel senso è normale o è anormale? no è normale che sia così normalmente ah ok è normale che sia così sì sì perché io chiaramente essendo lost trasmetto direttamente in alta definizione giochi in casa giochi in casa non è per farti i bite migliori non è per farti un dispetto ci mancherà però tu hai le luci più tu hai le luci più fighe cioè effettivamente mi hai sorpreso questa sera vi faccio vedere a tutto a tutto schermo guardate guardate che figata che c'ha che c'ha luca incredibile perché quello lo sistemo bene così proprio atmosfera lo sistemo bene così perfetto guarda che figata bellissimo grande 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 allora continuiamo i saluti qua c'è un sacco di gente veramente l'essi rocchetto sergio roberto mandelli buonasera a tutti thomas munaretto marco ciao ragazzi paolo libertini ciao a tutti imperdibile serata la fantomo con ospite un certo di un certo calibro è ragazzi questa sera spariamo grosso ng ng ciao a tutti daniele ciofi roberto mandelli giovanni bazzoli tommaso mencarelli ciao a tutti attesa trepidante ospite d'onore sì perché sono siete un po diciamo siamo ancora diciamo qualche minuto fa c'è tutti marco se continui così fra un po vedremo alla fantoma anche satriani ma adesso non esageriamo non esageriamo anche perché bisognerebbe parlare in inglese che insomma magari io diciamo qualcosa lo posso masticare però insomma non è che sia proprio una cosa semplicissima grande serata da flavio colzani andrea gallo ciao andrea ciao a tutti anche da adesso qua mi saltano via come solito tutte le domande tanti saluti davide serra guitar ciao tanti saluti da marco al mitico luca i rock gg colombo l'abbiamo salutato simone catania mister danni francati alberto lombardi massimo lionetti stasera siete troppi ragazzi non riesco a fare c'è anche luigi schiavone ciao luigi grande luigi c'è michele bellina ciao michele luca coppetta calzavara buonasera a tutti fabbico fabrizio cocco ale carino vediamo vado avanti ragazzi francesco all'ara siete veramente tanti mi fermo la prima domanda che ci sarà sicuramente ciao luca a marco from landon quindi abbiamo anche titus guitar from landon thank you very much ma parli italiani amoretti che è un mio amico bella pettiatura martina tornata in toscana qualche giorno che mi pettino col petardi io non mi petto i capelli ormai che stanno hanno preso vie quei pochi che sono rimasti hanno preso vie che non solo non nessuno sa c'è anche l'amico micchi bianco ciao micchi fabbio guidi andrea no è come sempre presentissimo gaspare consiglio simone cattania se posso domandare roberto meli l'amico roberto meli si posso domandare perché la scelta del camper del camper cioè del correttore e con quali e con quali amplificatori hai profilato i tuoi suoni ecco cominciamo subito con un tema subito da nerd in tema col mio canale che effettivamente è un canale la scelta è chiaramente di carattere professionale nel senso che adesso come adesso è comunque indispensabile per avere più che altro a volte il palco muto il suonare con gli armonitor poi avere tanti suoni avere la programmabilità quindi mi ricordo nelle prime edizioni di sanremo quando usavo gli amplificatori tradizionali pedali chiaramente dovevo segnarmi tutte le cose però magari c'era il fonico che mi diceva poi alzarmi di 2db il suono dell'inciso di quel pezzo che era in mezzo ad altri 60 pezzi dici vabbè lo faccio però chiaramente non in maniera così chirurgica quindi il camper è utile per quello poi su quali ampli io da un po di anni utilizzo vox cioè da sempre quindi ho profilato i miei vox nt 50 che è un applicatore particolare nel senso che è molto vox però anche delle sfaccettature più pulite a volte vox trancia subito e poi con tutti i pedali quindi miei profili che sono poi quelli che ho messo in vendita sono comunque tutti con i miei vox però poi ogni tanto faccio esperimenti ma devo dire che faccio più esperimenti con l'equalizzazione gli effetti che non col rig diverso adesso dico una cosa che magari qualcuno mi odierà però a me sembra che i rig suonino tutti diversi e tutti uguali alla fine per cui alla fine io mi metto lì a ritoccare tutto quanto e ci sono veramente centinaia di parametri per cui dopo anche già con un profilo solo si riescono a fare delle cose pazzesche poi io sono sempre stato vecchio a scuola quindi nella programmazione ho sempre amato il modeling per cui una volta selezionato anche quando c'era il glorioso zentera non so se me lo ricordo che aveva tanti modelli fisici ma alla fine poi ho selezionato quei due che mi piacevano e con quelli ci ho fatto tournee dischi eccetera però chiaramente modificando effetti e tutto quanto allora io ho un ricordo a un flashback vediamo se me lo confermi è che hai parlato di zentera io mi ricordo una pubblicità di un'automobile dove c'era un pet dove c'era fosse di little wing sì no sì little wing era con la pubblicità della bmw la campagna europea per cui tra l'altro l'abbiamo realizzata da ferdinando ornò che è un noto produttore di discografia e jingle pubblicitari per cui mi ricordo che mi chiamo oggi tenendo mi guarda che dobbiamo fare la cover per cui chiaramente c'è anche una cosa che andava visione supervisionata dagli eri di di hendrix per cui insomma abbiamo fatto questa cosa iper curata e poi dopo chiaramente si scatenava un po sul web come si dice le le ipotesi su su chi fosse se la versione di di hendrix o di stevie ray voglia o questo quell'altro poi chiaramente ai tempi non c'era questo social così imponente per cui però comunque era più difficile raccontare che cosa avveniva insomma quando non c'erano scritti i crediti poi dopo invece abbiamo fatto un'altra pubblicità molto bella mai nimo che è un brano era un brano diciamo un po a matrice hendrixiana però composto da me ferdinando e lì li avevamo era il periodo yux and kettner per cui comunque avevo suonato con non quello zentera ma mi sembra con un pedale a valvole della yux and kettner sì ho capito il pedalotto quello grande sì esatto ma quando fai i profili delle del vox cioè ci metti i pedali davanti profili tutto oppure a volte sì ma guarda è tanto tempo che non realizzo più nuovi profili perché comunque poi come ti dicevo poi vado a lavorare di ritocchi però sì comunque i primi tempi ho provato con tutti i pedali con gli exotic i rock box il langraf per cui ho tutta una compilation di cose che non ho messo in commercio ma ce li ho lì nella library per cui alla fine sono suoni che hanno delle piccole differenze poi non ti nascondo che ogni volta che inizio una nuova produzione comunque prendo i miei suoni che sono già come dire ottimizzati ma poi li ritocco perché a seconda dell'arrangiamento della chitarra della pressione sonora comunque bisogna sempre fare un sacco di adattamenti insomma certo certo c'è un'altra domanda da simone grv ciao come si impara a gestire emozioni del palco chiedo all'ospite luca è una cosa non semplice oltre la preparazione cosa è d'aiuto tutti i palchi belli insomma è un po un discorso molto ampio insomma però chiaramente la pressione psicologica fa parte della nostra professione no per cui comunque siamo sotto pressione sia se facciamo un esame di chitarra se facciamo la lezione col maestro di chitarra se facciamo una registrazione una diretta televisiva o si sale sul palco suonando e si è on the spot non magari a facendo una ritmica reggae dove chiaramente uno più coperto dalla band per cui lì lo studio sicuramente aiuta sempre per cui se io sono molto preparato sono più tranquillo però a volte cerco anche di studiare che ne so faccio un esempio eseguire un brano lo eseguo molto più veloce così quando arriva il momento della diretta sono tranquillo insomma perché comunque ho già sperimentato anche uno step più difficile poi ci sarebbero mille cose da dire insomma però chiaramente è molto importante anche avere una buona eccellente organizzazione mentale gli strumenti la poi spesso c'è una partitura da leggere quindi la difficoltà a volte di leggerla a parte guardare il maestro e guardare il cameraman cambiare gli effetti infatti in televisione mi dico sempre che non rido mai dico sempre che non c'è un cazzo da ridere comunque è un momento dove chiaramente sono sotto pressione per tante cose quindi quando in televisione vedo uno che è fin troppo allegro così o quel pezzo magari l'ha suonato centinaia di volte perché è il chitarrista storico di un artista se invece una cosa nuova solitamente se uno è così tutto spensierato forse in play sì sono assolutamente assolutamente d'accordo con te c'è subito la domanda fatidica che chiaramente così la facciamo fuori subito da fabio guidi tra le domande per luca è troppo chiediti come mai non eri a sanremo scelta tua dell'organizzazione tiriamo fuori subito io di non andare a fare il lavoro di televisivo più importante ci sono stati dei cambiamenti quest'anno come si è visto per cui comunque non ero solo io non riconfermato però comunque adesso non ho voglia di entrare nei dettagli però no non è stata una scelta mia ecco questo certo perfetto infatti comunque luca non ha fatto sarà mai successo il finimondo effettivamente c'è stato scoppiata va bene insomma dai ciao marco che auricolare stai utilizzando sto usando degli auricolari lake sound che sto che sto proprio testando in questo momento ecco parlaci ecco dell'esperienza questo visto che ha introdotto questo tema perché gli auricolari perché effettivamente no sono le ultimate ecco io invece sto sto testando questo brand italiano artigianale in italia ci sono diversi costruttori di near diciamo professionali sto testando che la prima volta che mi capita appunto di testare delle cose un po' professionali ecco però c'è sicuramente tu come sai diciamo io devo la mia notorietà al discorso del digitale e chiaramente il digitale offre tantissimi spunti tu sei testimone perché effettivamente situazioni come possono essere sanremo o situazioni comunque di palchio attuali sicuramente non si può portare la cassa testata 4x12 con volumi cioè il concerto degli cdc lo possono fare solo gli cdc oggi come oggi mentre diciamo la tua nella tua esperienza ormai che è ormai quella della maggior parte di palchi impone un palco silent sostanzialmente anche se tu in realtà non sei proprio silent perché comunque hai la cassa se posso uso una di mezzo dipende sempre dagli ambiti no e anche poi dall'intelligenza dei musicisti allora un palco completamente silent non può esistere perché già la batteria a meno che non sia una batteria digitale comunque ha un volume se si mette anche il plexiglass comunque ha un'uscita non si sa perché ma la chitarra viene spesso segata non cioè non si sa si sa perché spesso il chitarrista gli ed ha di volume allora dicono no spegniamo però in realtà ci può essere una via di mezzo io comunque sono sostenitore della chitarra un volume umano e dignitoso all'interno del mix non sono uno di quelli che ama avere il volume che spacca tutto anche perché spesso è anche un po una manifestazione di virilità non è un volume mostruoso ma in realtà non sempre è necessario per cui da un po di anni ho adottato questa soluzione di avere in ogni caso il camper di armonitor però una cassa red sound solitamente o a volte anche una cassa per un cabinet per chitarra normale che mi permette l'interazione per cui comunque se devo fare un feedback ce l'ho se devo comunque sentire un pochettino vibrare il suono e a volte magari può essere che apro un pochettino di armonitor e sento qualcosa però dipende dal tipo di palco perché se sono in un club assolutamente sì se sono in un teatro chiaramente la casa sarà veramente bassissima se sono in uno stadio chiaramente anche se tolgo la cuffia forse peggioro il risultato perché non io vedo tanta gente che di solito scrive dice agli armonitor sono la morte della musica eccetera così ma dipende dagli ambiti cioè in uno stadio in un palazzetto dove c'è un ritorno di sala pazzesco il pubblico che canta anche quindi con questi o un ascolto assolutamente di altissimo livello soprattutto se le cuffie sono ottime questo anche un discorso di avere delle cuffie che hanno un'aderenza tale per cui comunque il suono non cambia neanche se cambine le espressioni o se sudi insomma sono dettagli non da poco a volte quando uno dice ho preso delle cuffie da venti euro suona da paura da capire poi nella performance di otto ore di prova se veramente è così quindi a volte ci sono cuffie pazzesche che però escono un pochettino che hanno dei problemi e poi non dimentichiamoci anche che le orecchie vanno preservate per cui ho vissuto anni in cui comunque usavamo gli amplificatori mi con tozzi negli anni 90 avevamo dei volumi di palco mostruosi c'erano i side che mandavano tutto quanto io avevo due casse ma si era bellissimo però ogni volta scendevo dal palco con le orecchie che mi fischiavano e fischiavano per tre giorni quindi se avessi fatto quella vita per sempre dopo un po' avrei cominciato a non sentirci più un cavolo e poi non sempre uno è nello stato d'animo di avere quel tipo di pressione sonora cioè non è sempre festa no se tu fai comunque è una tournée di 30 date magari la data è il momento dove il più adrenalina e vuoi sentire il volume alto ma se al mattino dopo fai le prove o fa il sound check comunque magari anche due linee di febbre vorresti un attimino un pochettino più di quiete non puoi arrivi e sei vicino un boeing tre ore e mezzo per cui insomma questo ci sono stati dei miglioramenti secondo me nel corso degli anni però su queste cose non tutti viviamo le stesse esperienze per cui è giusto che ognuno utilizzi la strumentazione più idonea a seconda dell'ambito che frequenta è come quando c'è chi dice la mia testata suona mille volte meglio del camper sono d'accordo anch'io però quel suono lì magari lo sente solo il chitarrista ma non lo sente nessun altro perché la comparazione non va fatta con l'ampli e il camper ma va fatta con l'ampli microfonato che passa attraverso tutto un routing e poi quello che arriva per esempio in studio o in televisione tutto viene digitalizzato per cui ho posso dire che avendo passato tutte le fasi fatto dischi con tutte le cose possibili quindi gli amplia valvole e rockman e multi effetto il periodo dei frigoriferi eccetera penso che siano tutte soluzioni valide ma comunque risultato finale non è quello che sento io dalle mie orecchie ma è quello che passa in tutto il routing e camper a camper come anche elix o positive grid o tutto quello che c'è in circolazione adesso cioè comunque salta un passaggio però ripeto la comparazione non va fatta con quello che io sento lì per cui è tutta un'altra cosa assolutamente io credo che tra l'altro io quando ho cominciato le mie esperienze digitale non ho cominciato subito con il digitale ma l'ho cominciato perché anche a livello di piccoli locali ho cominciato a usare gli in ear ed è stato un cambio epocale cioè traumatico all'inizio perché effettivamente vai a sentire tutta una definizione della chitarra che solitamente non sei abituato a sentire però effettivamente è stato utilissimo per poi capire come funziona il sistema digitale credo che oggi come oggi un chitarrista tra le varie cose in cui deve essere preparato soprattutto a fare un lavoro come il tuo credo che ci sia la necessità di imparare a suonare ad ascoltarsi con gli near monitor e assolutamente questo è indispensabile anche nella capacità di avere la chitarra un volume giusto cioè anche questa è una cosa importante no cioè tanti vogliono sentire il proprio strumento molto più alto del resto quindi già è sbagliato come principio perché poi uno vuol dire che non ha non avrà un timing chirurgico e a parte rompere le scatole agli altri però anche l'intonazione di un bending se tu non sei all'interno del della texture armonica comunque rischi di non essere intonatissimo quindi mi sono perso scusa stavo dicendo il discorso del discorso degli near che diciamo di avere un volume adeguato ecco il volume adeguato che deve essere nel mix allora su questo tipo di pensiero nelle cuffie ancora più evidente cioè se io la chitarra troppo alta in cuffia sono portato non sentire più nulla per cui comunque bisogna cercare di gestire anche le frequenze per cui le frequenze medie sono molto aggressive in cuffia molto più che da un amplificatore per cui quando uno impara a gestire questa cosa io ti assicuro che adesso quando faccio i tour le trasmissioni quando suono dopo tanti anni di esperienza ho un ascolto che è fantastico per cui è stereo tutto posizionato per bene tengo il cantante anche molto alto cosa che invece non facevo prima ma perché comunque nel casino di quello che c'era il microfono il cantante tirava dentro tanta roba cercavo di abbassare un po' però penalizzando anche il feel di esecuzione invece adesso quando il cantante molto alto io suono come se fosse se stessi accompagnando il disco però è tutto rigorosamente live ti ringrazio infinitamente perché c'è proprio sei diciamo le parole che solitamente dico io stampate da te ecco quindi perfetto mi fa molto piacere che ci siamo messi neanche se ci metteranno d'accordo prima le parole assolutamente perfette in cui insisto molto c'è al di là del fatto che uno voglia utilizzare l'analogico il digitale è estremamente importante l'ascolto ragazzi l'ascolto dovete suonare all'interno della band non per i fatti vostri solo allora potete rispondere a un paio di domande che allora c'è vabbè paolo guiducci che dice studio di registrazione alla preferenza fra analogico e digitale allora ecco un po quello che dicevo prima no cioè se lo studio è lo studio di mauro pagani che è qua di fianco tra l'altro che è uno studio pazzesco grandissimo dove ha degli amplificatori che sono la storia del rock microfonature pazzesche e fonici eccellenti meglio analogico quindi chiaramente il risultato sarà pazzesco anche se richiede del tempo cioè comunque andare in studio e registrare una take con un box luna tanti per cui a volte li compariamo un po vediamo un po richiede del tempo la microfonatura a volte ci mettiamo lì controlla si suona bene no spostiamo il noi ma non mettiamo il 57 o quello nastro per cui ci vuole tempo un camper o un dispositivo digitale uno lo attacca e va per cui se non c'è tempo meglio il digitale se la stanza suona di merda perché comunque è una stanzetta piccola quindi non si può tenere il volume alto e magari c'è molta rifrazione l'analogico nella ripresa ripeto viene penalizzato penalizzato assolutamente per cui comunque ci sono tutta una serie di accorgimenti che vanno presi a seconda della qualità del progetto insomma poi invece c'è un'altra domanda che puoi raccontarci il tuo primo ingaggio da musicista allora io mi volevo riagganciare posso farmi pubblicità ma è tutto tuo anche perché non è che c'è uno sponso non c'è un chiacchio allora dovete guarda faccio anche così è uscito questo è vita da chitarristi oltre le corde quindi praticamente è un libro di narrativa non è la un libro didattico per cui comunque lo possono leggere tutti anche chi non suona la chitarra perché io guarda ho proprio messo sulla quarta di copertina questa cosa no che dico attraverso questo libro colombo affronta storie vissute immaginarie a volte un po romanzate di un chitarrista le prese con la vita reale questo un libro per sorridere riflettere oltre le corde ovvero svestendo i panni dell'artista con l'intento di toccare temi situazioni luoghi comuni e leggende con le quali entrare in empatia in questo po la e il primo ingaggio lo scritto qua per esempio quando parlo del capitolo del cdt chitarrista da tv io mi piacciono le sigli per cui ho messo tutta una serie di cose il primo ingaggio era stato adesso non mi ricordo se era intorno all'ottanta erotti 85 e mi chiamarono per fare una trasmissione era strana amore con alberto castagna per cui mi chiesero di portare la chitarra acustica doveva fare un brano di battisti per cui andai lì a fare le prove poi alla fine delle prove mi chiedono i dati per l'assicurazione mi chiedono se soffro di vertigini non particolarmente perché dobbiamo andare al trentesimo piano a fare questa cosa per cui siamo dovuti salire con questa gru per arrivare alla finestra di questo grattacielo dove lavorava questa tipa che era l'aspirante fidanzata di questo che doveva cantare di merda io ho suonato di merda per cui è stata la performance più brutta della storia però quello è stato il mio primo lavoro ok molto bene poi magari ritorniamo anche di nuovo sul libro chiaramente e claudio busselli dice domanda per luca sia i progetti solistici e se pensa che avere progetti solistici in italia sia un po sottovalutato io si ce li ho nel senso che ho fatto tre dischi adesso ho scritto un sacco di pezzi vorrei farne un quarto però magari non lo so se farò uscire un singolo che cosa perché comunque adesso va questa cosa dei singoli ho fatto uscire il libro per cui magari un disco è un progetto troppo lungo per riuscire a portarlo a termine in tempi brevi per uno che non si dedica completamente a quello ognuno di noi ha tante tanti lavori che vanno dal live ai tour ai dischi eccetera per cui il progetto artistico chiaramente richiederebbe un periodo per cui vediamo però sul fatto di essere apprezzato sottovalutato no io posso dire che a me ha dato sempre molto il mio progetto artistico perché è lì che poi viene identificato chi ha qualcosa da dire nel senso siamo in tanti cerchiamo di suonare tutti al meglio di copiare quello che succede di essere eclettici di riuscire ad avere un campionario di suoni estremamente eterogeneo però è quando facciamo un progetto sudista che viene fuori la nostra anima e soprattutto che viene fuori anche la nostra capacità di produzione e compositiva possibilmente se il disco è fatto di brani inediti per cui secondo me è assolutamente molto importante c'è qualcuno che chiedeva anche l'utilizzo di ableton davide serra qua non so se si vede nella nel taglio che hai fatto c'è il controller te lo apro eccolo qua dai suonaci qualcosa beh vabbè adesso se vuoi che suoni qualcosa magari suono uno dei miei miei brani così però qua ho delle cose un po io ci gioco un po su queste cose qua no perché con ableton posso far partire dei groove quindi per esempio qua delle cose pre programmate no quindi a volte accendo spengo e poi ho delle cose estemporanee che posso suonare per esempio quindi qui posso un po mixare a volte delle parti suonate qua oppure suonate con la chitarra oppure a volte quindi a volte poi posso registrare delle cose in tempo reale no per cui per esempio qua a volte metto il suono di basso per cui faccio uso dell'harmonizer qua adesso qua ho collegato il camper per cui se faccio partire delle clip e poi lo registro io qua poi ho un pedale per automatizzare la i cambi e questa diciamo che è una clip che ho programmato su un accordo però poi posso mettere altre cose tipo qua precedentemente ho registrato una clip di un blues per esempio no qua un'altra cosa e questo è un'altra cosa e questo è un'altra cosa e questo è un'altra cosa è un'altra cosa E poi posso fare un po' quello che mi pare, ogni tanto giochierello un po' su queste cose. A volte uno può mettere, che ne so, degli arpeggiatori, per cui... E poi uno piano piano... Spegne quello che... Wow. Bellissimo. Spettacolo. Una piccola gem con me stesso. Applauso da parte di tutti. Mi diverto un po', infatti in questo periodo qua, io ho sempre giocato con questi aggeggi qua, però la critica che mi è sempre stata fatta è, ma cacchio, allora così non servono più i musicisti. Infatti in questo periodo è stato veramente la salvezza, mi sono divertito, però premetto che io di solito queste cose le uso con i musicisti, per cui Ableton permette di mandare un click, per cui il batterista si sincronizza, ma può fermarsi, può suonare, eccetera, ma sottolineo il concetto che è tutto in real time. Cioè non è una sequenza che io ho programmato dall'inizio alla fine e quella roba lì, lo sappiamo, ammazza un po' le estemporaneità e la musica, no? Perché sappiamo che è come nelle produzioni pop importanti, dove il brano parte e da un punto arriva all'altro, è importante averle perché il brano a quella stesura è intoccabile. Ma se uno invece fa jazz o fusion o quel concetto lì però applicato poi al lounge, al solo, eccetera, è importante poter avere delle variazioni, addirittura posso cambiare tempo in tempo reale la velocità del BPM, insomma. Sono tutte figate che, insomma, bisogna imparare a usarle, però danno soddisfazione. Ma i suoni sono generati da Ableton stesso oppure è un espander? Quali suoni? I suoni che abbiamo sentito? Sono un po' un mix perché Ableton è semplicemente un software che permette di generare in real time delle sequenze e sincronizzare tutto. Cioè il bello di Ableton rispetto ad altri software è che è sempre a tempo. Per cui se tu anche stai facendo andare una sequenza e col puntatore vai in un altro punto, lo cambierà sempre a tempo. Non è come Logic dove tu addirittura se parti in tempo reale, io quando parto è esattamente... Quindi non c'è latenza. È quantizzato, diciamo. È assolutamente uno strumento musicale, mentre invece un software solitamente parte a quei 30 secondi di latenza che fanno sì che uno non possa usarlo per suonare in tempo reale. Poi qua sotto non si vede ma un sacco di pedaliere, per cui adesso in questo periodo sto utilizzando questo pedale che è una figata. Che è... Wow. Plus, no? Che fa... Uno deve studiare le scale. Anzi, guarda, ci metto anche il basso. Bellissimo. Per cui... Quindi mi piace giocare su queste cose qua, ma sempre pensando poi a un'applicazione live. Certo, certo. Quella la figata. Tra l'altro anche Logica adesso ha implementato una cosa simile, devo ancora provarla, sull'ultima versione mi ispira a quello che stai facendo, effettivamente, è molto interessante. Tra l'altro, visto che hai la PRS in mano, mi chiedono ma... come è nato l'amore per la PRS? Ma allora, c'è una storia dietro, sai che sto guardando e si vede... peccato che la qualità... Eh, la qualità, quest'ora qua purtroppo, dopo verso le... che ore sono adesso? Verso le 11 si risistema, perché probabilmente... Ah, ok. Quelli che non sono... quelli che non sono su Netflix sono qui, stai sicuro. Cioè, però c'è ancora... c'è ancora un po' di gente che è su Netflix e quindi la banda si abbassa un pelo. Certo, si abbassa. Ma l'audio invece arriva bene. L'audio arriva perfetto. Perché questo è sempre l'importante. L'audio arriva bene in stereo, tra l'altro, quindi... Fantastico. Infatti con Zoom è il bello appunto questo, che l'audio è stereo. Allora, l'amore per la PRS. Dunque, io diciamo che ho sempre avuto delle lunghe fasi, cioè chitarre di cui mi sono innamorato per tanti anni, poi è successo qualcosa per cui ho cambiato, per cui ho avuto come tutti il periodo strato, quindi il periodo in cui appunto hai citato la pubblicità di Little Wing. E comunque lo strato landing style andava molto, ma non così tanto come poi è avvenuto negli anni dopo. Quindi a un certo punto, diciamo che mi ha un po' stancato quel suono che è meraviglioso, la strato cassa e la chitarra più bella del mondo, però facevo fatica a trovare un'identità. Quindi questa era la cosa un po' che mi ha fatto cambiare e sono passato alla Lespolio, la mia Lespolio, non so se si vede lì, che è la Goldtop, la Mitica, che ho usato in tantissimi programmi, dischi, eccetera, insomma, per cui comunque tanti mi scrivono, ma che fine ha fatto? E lì comunque la suono ogni tanto. Però poi un giorno è successo che è caduta e si è spaccata la paletta, infatti ne approfitto anche qua per ritirare in ballo il mio libro, dove qua a un certo punto parlo di storia di una frattura. Parlo di questa disavventura, ci ho scritto un romanzo su questa cosa, ma in realtà poi è solo il finale che è vero, che mi è caduta e si è spaccata la paletta. E purtroppo la giudizia con quel pronale. Quindi a quel punto, in quel periodo, ero disperato perché io poi sono molto monotematico, quindi ho tantissime chitarre, ma ne uso quasi sempre una sola, poi uso anche le altre perché magari servono suoni diversi, però di base io suonerei solo con una chitarra. Quindi sono andato alla ricerca di un'altra Les Paul e ho, io tra l'altro ero indosser Gibson, per cui mi avevano dato vari strumenti, ma non c'era mai quella che era come quella lì. Per cui ne ho provate tantissime dai vari amici, da Carlo di GBL, dalla Key Music, oppure sono andato anche a fare giri a Montebelluna, insomma. Poi un giorno per caso mi è capitata una PRS e ho detto ma proviamola. Poi tra l'altro qua c'è una cosa buffa che io non l'ho mai presa in considerazione per un motivo, perché vedi che ha questa discesina qua, ok? Allora io per tanti anni suonavo col mignolo appoggiato qua come riferimento, per cui questa cosa mi dava fastidio, perché a un certo punto c'era la discesa, per cui non riuscivo a controllare la pennata. Poi a un certo punto ho deciso di cambiare tecnica, ma non per la PRS, perché a un certo punto nella mia vita ho capito che suonando con la mano staccata avevo più pressione sonora ed equiparavo la ritmica al solo. Quindi solitamente invece se uno appoggia scarica almeno il 50% della forza sulla chitarra e quindi praticamente la pennata diventa più debole, dove invece dovrebbe essere più preponderante. Cambiando tecnica, quando ho preso la PRS in mano ho detto che figata pazzesca, per cui diciamo che l'ho presa in considerazione e ho comprato, la prima fu una Dave Grissom, che è una PRS un po' particolare, una 22 bellissima, con tre potenziometri perché si possono fare i blend dei due pick up. L'ho tenuta un po', poi però sono entrato nel trip, quindi ho cominciato a provare PRS e destra manca, quindi come spesso accade ho fatto una cazzata, l'ho venduta, ne ho presa un'altra, che poi ho rivenduto, ne ho presa un'altra ancora, eccetera. Fino a che ho trovato pace con la Custom 24, quella che c'era nella foto, però diciamo che la Custom 24 è una chitarra pazzesca come feeling per i suoni distorti, per fare cose rock, è molto lirica, è bellissima, però per i suoni bluesy è un pochettino meno indicata, i 24 tasti portano a quel tipo di suono. Quindi allora poi ho preso delle Custom 22, perché il 24 tasti, lo ricordo a tutti, il 24 sposta il pick up del manico di quei centimetro e mezzo in avanti e quindi il pick up del manico non è più nel diapason della corda e non ha più quel suono che si è abituati a sentire. Un po' più medioso, è bellissimo lo stesso, però è un'altra cosa. Per cui questa qua, diciamo che è quella che ho usato per lo più nelle ultime produzioni degli ultimi 3-4 anni. Poi qua ho un'altra PRS molto bella, che è una 594, quindi è un'altra McCarty, però questa ha 4 potenziometri. è un pochettino più, come dire, più pesante, sia come body che come suono, però è bellissima anche questa. E quindi in questo periodo di quarantena ho cercato di far sparire tutto, virtualmente almeno, e di usare solamente uno strumento, perché mi sono messo a studiare una serie di cose, la pennata, il tocco, eccetera, per cui comunque io ho il periodo in cui mi concentro molto sul suono, sul tocco, sui mitici plettri di... A7PX. ...di sommasi, insomma, che sono quelli che comunque generano poi il suono di partenza. Ah sì, 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 sì. Ecco, quindi questa è la storia dell'amore per la PRS. Prs. Verissimo. Va detto che la PRS è uno strumento, a parte che come gli uterià è pazzesca, per cui ogni volta che ne prendo in mano una, anche io viaggio tanto, viaggiavo tanto, adesso vediamo se si riparte, e ogni volta se chiedo una chitarra sul posto, perché magari non si può portare in aereo, comunque è sempre una chitarra di alto livello, regolata bene, anche perché chi la tiene, insomma, essendo uno strumento di valore, la tiene molto bene, per cui comunque... Però, quando le tiri fuori dalla custodia da nuove, sono già perfette, così. E poi cercavo un suono che stesse un po' sia nel mondo scala Fender e scala Gibson, per cui comunque ha un suono molto caldo, però al tempo stesso con delle sfumature cristalline che mi mancavano un po' solo all'espo. Questo è un po' la filosofia, insomma. Molto bene, tra l'altro saluto Mirko Cash che ci sta seguendo e anche Luca Galeano. Ciao Luca, ospiti interessanti questa sera. Ci chiedono il nome del pedale che hai usato prima. Quello che fa Sastron, si chiama PLAS, della Game Changer. Il Game Changer, perfetto. Bellissimo, adesso non ve lo posso far vedere, però sembra un pedale del sustain del pianoforte, per cui anche come oggetto è bellissimo. Costicchia, perché credo costi sui 300 euro di euro e lo importa backline. Però è veramente una cosa incredibile, perché poi c'è... A volte si possono fare delle cose strane. Quindi a seconda di quando lo premo faccio delle cose differenti e poi posso alzare il volume o abbassarlo a seconda di quanto lo premo. Adesso l'ho regolato molto leggero per non avere troppa preponderanza. Però, per esempio, quando suono dei brani, tipo c'è un mio brano, Monkey's Time, che ha una zona dorica. Una zona frisa. Eolica. Una zona misolidia. Minore melodica. Eccetera. Bellissimo. Per cui comunque, con questa cosa, se c'è un bassista che sta suonando, io mi faccio da... Fai il pad. ...bastierista da solo, insomma. Sì, sì. Ma fa anche... Il riverbero che sentiamo lo fa lui? Non c'è il riverbero di fatto. Cioè, il riverbero... Ah no, scusa, il riverbero che senti è del camp. Ah, ok. Lui è prima di tutto, per cui entra. Però io qua c'è un segreto che ho fatto, che praticamente lui è un'uscita separata. Io lo faccio entrare in un MS70 della Zoom. E quindi gli do un chorus, per cui lo senti allargato. Così si apre. Bellissimo, bellissimo. Sono tutti esperimenti che ho fatto in questo periodo, perché avevo il tempo di farlo. E poi però l'altro è l'octaver della Boss, che invece permette un'octava selettiva. Per cui, diciamo che funziona fino a questo Fa. C'è. Dopodiché, basta, non c'è più. Bello. Per cui si possono fare un po' di figatine. Bellissimo, bellissimo. È veramente affascinante. Poi si sente da Dio, quindi alla grande. Beh, visto che stiamo parlando di cose tecniche, tra l'altro ti ringraziano per la generosità delle informazioni tecniche che stai dando, quindi effettivamente grazie. Ivo Ciaraldi chiede consigli per una routine di studio settimanale, come la dividi? Questa è una domanda che capita mai sempre su tutti gli ospiti chitarristici e tu che sei effettivamente un maestro importante. Vabbè, io adesso sembra che mi voglia fare pubblicità continuamente, però ho i miei libri vita da chitarristi che sono proprio impostati in quel modo. Sono 15 lezioni per ogni volume e ogni lezione sarebbe lo studio di una settimana, per cui all'interno c'è lo studio di esercizio di riscaldamento, un elemento musicale che può essere lo studio di una scala nuova, un elemento armonico, quindi l'armonizzazione di quella scala e poi degli elementi teorici. Per cui diciamo che lo studio deve progredire su vari fronti, per cui anche la lettura è importante, insomma, per cui comunque io cerco sempre di spronare i miei allievi a studiare attraverso la partitura e non la tablatura. E quando si legge comunque si ha una visione più colta e globale, quindi è come quando si deve suonare un brano, è vero che più o meno a orecchio uno riesce a fare tutto quanto, però avendo una traccia davanti diventa tutto meglio. Però la difficoltà di chi legge la musica è di non diventare assettico, cioè comunque il lato razionale e emozionale devono sempre rimanere molto allo stesso piano. Allora se si riesce a fare questa cosa si riesce a leggere la musica però suonando in maniera istintiva. Ok, molto bene. Waterman ci chiede, ma lo chiedo a te, qual è il tuo pelè e maradona della chitarra? Ah, io non è che sia molto forte in calcio, quindi vabbè. No, non mi piace rispondere a questa domanda perché io ho sempre ascoltato tutti i chitarristi, per cui comunque ho avuto dei periodi in cui ho scoperto Pat Metini, ho scoperto John Schofield, ho scoperto Van Allen, ho scoperto Jeff Beck, ho scoperto Hendrix, tardi rispetto a tutti quelli che ho citato adesso. Per cui ogni periodo mi ha dato tantissimo, quindi a volte avrei voluto suonare come Scott Henderson, a volte avrei voluto suonare come Gary Moore. Per cui, cioè ognuno ha qualcosa veramente di incredibile, di importante, anche Santana è uno che mi ha aperto tanto un mondo musicale, anche se non viene annoverato tra i chitarristi più virtuosi, però invece è veramente virtuoso dal punto di vista dell'espressività, dell'irismo. Per cui è uno di quelli che quando lo senti è riconoscibile, ma che poi tutto sommato ha inventato le canzoni chitarristiche strumentali, cosa che poi è stata ripresa da Gio Satriani o da tanti altri dei più moderni. Però lui alla radio se ne usciva con Europa o Samba Patì, per cui ai tempi era roba, quando tu comunque non avevi grandi spunti chitarristici, poi sentivi sta roba alla radio e dicevi, ah ok, quindi si può suonare anche così la chitarra, con questo feedback infinito che non si capiva mai come facesse. Esattamente, bellissimo, effettivamente è quel modo di suonare da storyteller, diciamo, che tra l'altro io vedo che Salvatore Tedesco ci fa una richiesta di Sunderland e quel disco è molto bello perché effettivamente è uno storytelling quel disco lì, cioè ci sono delle linee melodiche che sono piacevolissime, cioè non si ascolta, diciamo, la chitarra e basta, si ascolta una storia. Esatto, quello che ti dicevo prima sui progetti artistici, cioè comunque è molto importante non solo la bravura del chitarrista, quello che cerco io almeno e poi cerco di riproporre, ma anche tutto il mondo sonoro. Per esempio per me i progetti discografici andrebbero almeno una volta ascoltati in cuffia perché è lì che si colgono tutta una serie di profondità, di elementi che passano inosservati ma che sono estremamente importanti. Per cui anche gli assoli di quel disco sono un po' delle storie, però io non li rifaccio mai uguali, però in un assolo è bello raccontare qualcosa, non fare semplicemente il leak del momento o cercare di stupire. Anche la difficoltà quando si fanno i progetti artistici è di non essere autocelebrativi, perché comunque siccome siamo, parlo di chi fa il mio lavoro, quindi lavora con gli artisti o in televisione o nell'orchestra, abbiamo un sacco di limitazioni, non fare quello, non fare una nota in più, usa esattamente quel suono eccetera, però in tutto questo io cerco sempre di metterci la mia creatività e a volte trovo delle micro variazioni che mi soddisfano. Quando faccio le mie cose idealmente direi adesso faccio il cazzo che voglio perché ho la posizione, però invece è lì proprio che mi limito, perché a volte mi rendo conto che fare meno è assolutamente più importante. Il Sunderland è nato un po' così, insomma, con delle melodie molto larghe che evidentemente sono piaciute. Ma ci fai qualcosa dall'album? Sì, va bene, posso fare Sottovento, che è la base. È tutto bello, ragazzi se non l'avete, avetecelo, perché è un album che si gode. Anche in macchina, così in autostrada, è spettacolare, veramente, veramente bellissimo. Ce l'ho sempre come colonna sonora dei miei viaggi. Sottovento. 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 Grazie a tutti. 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 Vai vai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, guarda, volevo fare un esperimento scientifico. Schermo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dovete comprare il disco. Esatto. Grazie a tutti. che lui è un mancino. e dice, come ti chiamo. c'è, 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 c'è. anche patti, c'è, c'è, c'è. le mie, c'è, 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 c' e questo uno poi se lo ritaglia così per cui comunque a Milano si dice piuttosto che Nieme è piuttosto chiaramente adesso per andare a fare un firmacopi in giro è molto dura e quindi è una buona soluzione è assolutamente una buona soluzione tra l'altro c'è Edo Leonardo c'è Edo Leonardo che se non sbaglio è della Svizzera il Binso sta facendo la muffa perché lui mi ha regalato un amplificatore Binso e l'ha dato a un amico che è Lele Leonardo no scusa Lele infatti ho fatto un mix e quindi ce l'ha lui devo passare a prendere solo che adesso in questo periodo che io sto cercando di disfarmi tutti gli ampli allora adesso mi torna un po' difficile ma arrivo Edo qualcuno dice in effetti si vede che hai difficoltà a suonare effettivamente sei un po' impacciato sei poco coordinato ok Andrea Gallo fa una domanda Luca oggi in quale direzione sei proiettato? che direzione hai preso e qual è il tuo cammino? saluto anche Beppe Loggia che è l'ex inquilino della casa in cui vivo ah ok quindi è è stato buffo quando sono venuto a vedere l'appartamento che lui essendo chitarista aveva guardato ma tu sei allora si è messo a parlare di chitarre così mentre la mia compagna guardava fortunato lui avere un inquilino così sicuramente non avete problemi no ma lui andava via ah c'è stato un cambio peccato peccato niente quindi dove sei proiettato? qual è il tuo cammino futuro in questo momento? eh adesso qua si apre un po' un discorso così un po' con mille punti interrogativi no? nel senso che io adesso sarei dovuto partire per il tour negli stadi con l'ultimo e quindi chiaramente adesso tutti i grossi eventi sono stati posticipati al 2021 pare quindi paradossalmente i grandi eventi qui lo dico e qui lo nego perché chiaramente siamo subordinati a delle normative statali e chiaramente le grandi agenzie stanno poi cercando di fare il loro lavoro per cercare di salvare il salvabile oppure di posticipare però è chiaro che adesso come adesso è più realizzabile una gig in un club oppure in uno spazio all'aperto che da un concerto in uno stadio quindi chiaramente adesso io ho il calendario annullato per cui penso mi rimetterò a fare un po' di concerti con la mia band con Alessandro e Paolo Polifrone per cui si accettano ingaggi qualcuno quando cominceremo insomma perché chiaramente adesso è sempre un po' difficile fare le cose in corsa ti chiamo e vieni a suonare dalle mie parti ti organizzio assolutamente però nel frattempo vado avanti con le lezioni online insegno al conservatorio di Bergamo insomma per cui lì la didattica non l'abbiamo mai fermata e niente quindi grandi punti interrogativi ma come un po' per tanti settori per cui la cosa che invece penso è che tutto sommato nonostante sia un settore che ha mille difficoltà io comunque ringrazio di avere fatto questo nella vita perché comunque anche in questo momento anche se abbiamo grandi punti interrogativi dal punto di vista economico però dal punto di vista dell'entusiasmo quello per fortuna non viene mai a mancare soprattutto adesso che la musica lo dico a me ma penso valga per tanti che ci stanno ascoltando mi ha salvato in questo periodo perché comunque l'abbiamo visto anche poi cercando di fare progetti interessanti o bizzarri o senza nessun tipo di utilità a volte magari progetti di beneficenza alcuni certificati altri ho suonato cose che non so neanche che fine avranno fatto però devo dire che comunque l'importante è sempre aver mantenuto l'entusiasmo nei confronti di quello che uno continuerà a fare per tutta la vita certo certo e a proposito di entusiasmo c'è Daniele Bellucci che chiede a un giovane di 20 anni consiglieresti ancora di fare la tua professione e ad un non più giovane di 40 che ha già una carriera consolidata alle spalle allora io come dico sempre non mi occupo di business per cui cioè io posso dire che ho avuto tante soddisfazioni dalla musica penso di essermele anche guadagnate per la l'impegno che ho sempre messo nello studio cioè comunque quello che dico sempre a tutti è che bisogna essere preparati a 360 gradi perché comunque l'Italia è un paese dove non ci si può specializzare a fare solo una cosa o solo i dischi o solo i tour o solo la didattica o solo il jazz o solo il rock per avere la longevità di una carriera salvo rari casi insomma di stelle di alcuni generi musicali comunque bisogna fare un po' di tutto quindi ogni musicista di base fa sei mestieri fa il live, i lavori di studio, la televisione, l'arrangiamento, la carriera solistica, la didattica quindi sono sei lavori che storicamente hanno avuto dei picchi in positivo e negativo a seconda dei periodi adesso paradossalmente se non ci fosse stata la didattica sarebbe stato comunque un settore totalmente fermo perché i concerti non si fanno dischi poca roba insomma trasmissione men che meno per cui se uno è preparato a 360 gradi allora glielo consiglio però consiglio sempre di seguire l'istinto cioè fare il musicista non è un lavoro che uno fa perché dice non so se fare il ristoratore, l'astronauta o lavorare in banca o fare il musicista cioè uno si ritrova come io ogni tanto tiro fuori periodicamente come racconto qua a un certo punto della vita si trova con una chitarra in mano e capisce che la terrà in mano per tutta la vita e gli darà anche da vivere per cui però non l'ho pianificato cioè di base io è successo io anzi ero programmatore di computer lavoravo nell'ambito informatico infatti per quello sono rimasto comunque molto legato a tutta questa roba io comunque cioè la mia passione viene fuori anche in queste cose quando mi metto a gestire dei software nuovi comunque lì viene fuori un po' la mia attitudine da nerd in quel tipo di mondo quindi che devo dire cioè sì che lo consiglio però a patto che uno lo prenda con serietà e poi sia anche pronto a fare marcia indietro perché non c'è un iter normale come fare la domanda all'ufficio di collocamento o che ne so adesso ci sono a parte non vale più quello che valeva 30 anni fa per cui tanti si promuovono sul web ma la realtà è che bisogna essere pronti per la vita reale tu hai toccato anche un argomento che a me è parecchio caro perché effettivamente il fatto di essere stato dentro la parte informatica oggi come oggi credo che sia un elemento abbastanza importante comunque per tutti i musicisti c'è il fatto di saper lavorare con una scusa rispondo a uno che dice giocate a Fortnite no io sto giocando a Red Dead Redemption quello mi sta prendendo proprio hai visto il commento qua cioè il fatto di avere una dimestichezza con la parte informatica per un musicista credo che sia fondamentale è veramente importante perché il fatto di poter buttare giù le proprie idee sul computer cioè poter scambiare file, informazioni, creare i pezzi perché va bene non è che si critica il computer perché è un ausilio per fare la musica solo questo è un ausilio che ti permette di creare cose che prima difficilmente potevi creare cioè al massimo avevi la chitarra, il piano, buttavi giù l'idea e poi con i tuoi compari di band la sviluppavi oggi riesci a fare tutto quanto però devi avere una predisposizione per l'informatica anche perché se vogliono utilizzare sistemi digitali effettivamente bisogna comunque saper collegare un sistema USB poter fare l'aggiornamento, poter scaricare i vari profili, le patch eccetera eccetera quindi questo io lo do visto che sono nel mio canale chiaramente sicuramente è importante poi vabbè qua dopo si aprono mille discorsi però è innegabile che adesso come adesso la musica digitale ci ha dato delle opportunità in più nel bene e nel male perché ecco una volta quando andavamo in studio a fare un disco lo studio costava un milione di lire al giorno bisognava ottimizzare il tempo gli studi erano degli studi seri non la cantina di qualcuno che ha comunque magari un computer performante così per cui gli investimenti si facevano solo su prodotti che erano auspicabilmente eccellenti o almeno che puntassero a quello adesso la tecnologia digitale ha dato libero sfogo a qualsiasi musica bella o spazzatura che sia propinabile sul web quindi però è contro insomma adesso qua il problema è chiaramente etico e andrebbe affrontato quasi in una maniera sociologica però io penso che se uno lavora con il nuovo con la mentalità del vecchio sicuramente fa delle figate cioè io per esempio anche se sul computer ho la possibilità di registrare 128 tracce però io ai tempi quando facevo i provvini avevo il Tascam a quattro tracce per cui bisognava avere le idee molto chiare perché quel poco doveva essere come in piccolo come facevano i Beatles che avevano poche tracce per registrare dei dischi meravigliosi per cui se uno rimane con quell'idea lì comunque le idee le porta avanti all'ennesima potenza ma senza disperderle come quando ci si perde con decine di take poi faccio il composite metto questo io di solito suono dall'inizio alla fine registro poi casomai faccio un insert e la cosa bella è che da solo mi seleziono il punto di ingresso, di uscita mi diverto anche perché così posso fare tutto quello che mi pare e in questo periodo di lockdown con i miei allievi diciamo che ho avuto modo di verificare anche la loro capacità di sopravvivere e di portare avanti anche la tecnologia che mai come adesso è stata necessaria anche se però non bisogna fare l'errore di pensare all'online come una soluzione o come una nuova cioè io credo tanto nell'interplay per cui la gioia che può dare il vedere e ascoltare un musicista che è sul palco con me non la può dare di certo un plug-in sono tutti surrogati però a volte invece ci possono essere delle forme creative che sono bilaterali e che comunque prendono in considerazione un aspetto tecnologico e uno emozionale certamente, io aggiungo che per quanto riguarda il digitale una delle soddisfazioni che posso dire di avere sempre è quando tanta gente anche di una certa età mi dice grazie al digitale sono riuscito finalmente a prendere in mano la chitarra e suonare in cuffia perché prima era impossibile cioè l'amplificatore magari tornava a casa tardi la sera oppure non avevo tempo, non avevo spazio e quant'altro comunque sapere che ci sono persone che hanno riconquistato il piacere la voglia di suonare la chitarra effettivamente è anche quello un passo un passo veramente molto importante quindi le tecnologie vanno benissimo utilizzate per il fine principale che è quello che puoi di creare giustamente come dicevi tu ecco per esempio una cosa fantastica di adesso è che quando mi viene un'idea per un pezzo prendo e la registro sul telefono e ho comunque il telefono pieno di idee usa adesso in questo periodo ho preso tutte le note vocali, musicali le ho convogliate e sto cominciando a svilupparle per cui cioè in altri tempi avrei avuto il foglietto scritto là poi una cosa registrata sul Tascam poi l'altra sull'AppDisc di Chissà Che insomma per cui comunque ecco anche l'organizzazione mentale però è proprio qua che bisogna imparare a usare la tecnologia del modo giusto perché io vedo poi chi fa un gran casino perché io penso che da informatico sono sempre stato abituato ad avere le macchine anche con dei processori vecchi o pochi giga però ottimizzando tutto ho sempre avuto il massimo invece a volte c'è chi perché l'artista può tenere tutto scarica, ci butta di tutto ma poi dopo non ho più memoria dici come è possibile che comunque io ho ancora l'80% libero certo certo c'è l'amico Daniele Norido che dice ma hai visto che hai fatto un disco con un tributo ai Beatles sì ok quindi visto che li hai citati prima l'ultima copia che mi è rimasta penso che sia un bel lavoro comunque mi era stato commissionato un po' come musica d'ascensore per cui l'ho fatto però poi ci ho preso gusto invece ho fatto degli arrangiamenti per cui un bel lavoro ok e poi ci chiede se vieni a Padova il Guitar Show però il Guitar Show anche quello è stato rimandato all'anno prossimo purtroppo ok andiamo avanti leggo ancora le domande di tra l'altro siamo 530 540 quindi stasera numeri incredibili quindi una platea considerando che è venerdì che tutti non sono potuti uscire per un sacco di tempo adesso si comincia a uscire quindi dai anche un bel un bel numero di appassionati di chitarra effettivamente magari ci sarà qualche moglie che non sarà proprio così contenta anche se vedo una presenza femminile diciamo ho visto qualche nome femminile sì sì le moglie mia moglie ci sta seguendo comunque ecco che la saluto prima era lei che mi ha detto so se la mia compagna ci sta seguendo che è da Rezzo per cui fa mi ha scritto mettiti a posto i capelli quei pochi che mi rimandano ok facciamo anche un po' di così di folklore ascolta ieri avevo ritorno un attimo a Sanremo perché ieri avevo ospite Federico Malamanna che lui Sanremo non l'ha fatto però dice effettivamente è un'esperienza veramente devastante credo sotto ogni punto di vista le prove l'attenzione il fatto di di suonare in quella in quell'ambito lì quindi vedo vedo diverse domande relativamente ecco diciamo qual è la diversità di suonare a Sanremo suonare in uno stadio in una diciamo in un palco non so come gli ultimi tour che hai fatto allora guarda io non voglio essere logorroico no però secondo me a me piace a volte teorizzare delle cose e non ci siamo messi d'accordo per questa cosa qua no 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 però io qua nel libro tra le cose poche cose perché è quasi tutto un libro con aneddoti da ridere però tra le poche cose serie parlo degli ambiti lavorativi no allora io identifico sei caratteristiche che sono la creatività la lettura scrittura l'improvvisazione la strumentazione l'affidabilità le capacità imprenditoriali ho fatto dei grafici dove spiego a seconda dell'ambito live o televisivo o a carriera solistica intervengano in misura differente tutte le caratteristiche poi dopo è tutto approfondito allora sono tutte esperienze completamente diverse per cui paradossalmente ognuno richiederebbe una figura professionale diversa o perlomeno che ha fatto un periodo di training in quella direzione lì per esempio la lettura è importantissima in televisione no perché suoni in un organico di 60 elementi a volte anche di più per cui se ognuno facesse quello che gli pare sarebbe un gran casino in sala di incisione la lettura è quasi inesistente perché quando fai un disco inedito la cosa tipica è che uno ti dice guarda sono 4 accordi vai suona orecchio poi in realtà scopri che gli accordi sono 5 che una volta c'è la terza al basso una volta la quinta una volta imbattere una volta in levare una volta c'è da fare la ritmica reghi una volta dopo uno strano per cui la cosa migliore è scrivere la parte allora paradossalmente in studio non serve leggere ma serve scrivere quindi per scrivere devi aver imparato a leggere per cui comunque ci sono delle cose completamente diverse nel live serve un impatto come dire da palco quindi un'energia diversa da quella che uno può avere in studio o in televisione in televisione è un po' quello che racchiude tutte le difficoltà dei mondi soprattutto quando fai dei programmi basati sulla musica come Sanremo quindi devi avere la capacità di suonare con una precisione da sala di incisione però una comunicatività da live possibilmente una stabilità alla pressione psicologica perché la diretta comunque ti mette a dura prova cioè a volte ci sono delle cose molto esposte che ti fanno anche mettere in discussione dove è il do maggiore per cui comunque ci sono delle cose dove impari poi a gestire anche questo tipo di momento però diciamo che ogni cosa è differente però il lavoro di televisione fatto a quei livelli lì penso che sia la cosa più complessa anche mettici per un fattore di responsabilità cioè comunque se tu sei in un club e non va l'amplificatore al limite dici oh raga bevetevi una birra e riprendiamo dopo se sei in un live è un problema infatti si hanno sempre degli strumenti spare però l'impatto live è diverso per cui per ipotesi anche non arriva a una solo comunque l'attenzione sul cantante spesso c'è un impatto anche distribuito tra le luci effetti speciali in televisione prova a pensare se tu hai un intro di chitarra a me quando ho delle cose molto esposte il mio stress più grosso è che funzioni tutto perché dico eh cacchio se poi non va qualcosa cosa gli racconto cioè in diretta televisiva anche 20 secondi di buco sono un'enormità e io toccandomi sempre però in 13 Sanremo non c'è mai stato un malfunzionamento mai neanche una nota sbagliata posso permettermi di dire perché c'è sempre una grandissima concentrazione però non è così scontato insomma quindi a volte anche il prevenire il malfunzionamento se è un cavo che scrocchia stai tranquillo che per la legge di Murphy darà il meglio dei suoi problemi comunque durante la prestazione più importante della 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 puntata certo certamente io tra l'altro ho fatto una diretta quando avevo cominciato a farle così io da solo e tornerò anche a farle proprio sull'importanza diciamo del non essere cialtroni da questo punto di vista perché io identifico dei musicisti che sono dei cialtroni che arrivano con i cavi che non funzionano cioè quello che arriva sempre col cavo che non va cioè non si preoccupano mai di avere i doppi cavi c'è tutte le cose esperte tutte le cose c'è l'organizzazione mentale che poi effettivamente ti permette di essere tranquillo quando suoni perché bene o male puoi contare che se anche ti succede qualcosa effettivamente deve pensare solo a suonare esattamente questo questo è assolutamente importante e qualcuno chiedeva tra le domande se fai qualcosa per la concentrazione in quei momenti lì meditazione fai meditazione fai treni autogeno qualcosa di no per esempio la mia forma di meditazione è sempre la chitarra quindi mi metto lì accordo le chitarre faccio in modo che sia tutto a posto faccio un po' come i controlli del capitano prima di decollare e poi mi faccio un po' di esercizi di riscaldamento cioè è chiaro che sono sempre cose per la coscienza però devo dire che funzionano sempre poi a volte cioè è anche importante non imparanoiarsi quindi se c'è una cosa che uno ha studiato bene arriva un momento e dice vado a farmi due passi torno e poi salgo sul palco e ascolta mi hai visto sempre parlando di concentrazione ti è mai capitato una cosiddetta svizzera clamorosa no per fortuna no ma sì forse nella vita sia Sanremo mai per esempio poi sì qualcosa forse magari qua e là però mai niente di eclatante insomma cioè comunque devo dire che sono sempre molto gioco un po' d'anticipo per esempio mi ricordo c'era stato un periodo facevamo io canto e ogni tanto arrivavano delle richieste un po' complicate tipo il solo di saltano swing per cui cioè uno di quei stori che o tu ce l'hai sotto le dita perché hai una tribute band quindi lo fai comunque cioè ripeto che farlo in diretta in televisione è diverso però io mi ricordo come già è difficile come solo ma me lo studiai ancora più più veloce infatti quando arrivò il momento della diretta lo feci in maniera impeccabile però cioè perché lo sapevo fare ancora più veloce quella è una cosa importante insomma certo certo allora poi vedo domanda per entrambi durante il soundcheck appena saluti sul sali non saluti sul palco avete un suono in particolare sul quale vi basate che usate come cartina torna sole no scusa non ho capito praticamente durante il soundcheck se avete dei suoni particolari che utilizziamo come come test per il libro ok ma no più che altro dei livelli ecco io al fonico magari do prima di tutto il livello più alto che ho perché è molto importante soprattutto con i dispositivi digitali che non vada in clip ecco per esempio chi non ha mai alzato il volume dopo il soundcheck alzi la mano però con i dispositivi digitali è pericolosissima questa cosa perché mentre con gli ampli uno dice vabbè c'ho più botta eccetera invece con le cose digitali se vai in clip non solo è un problema ma il fonico ci mette nella blacklist quindi molto importante anche il rapporto col fonico cioè se il fonico si fida di noi ci tiene anche più alti se sa che invece siamo inaffidabili perché ogni tanto facciamo un po' di testa nostra comunque poi ma diciamo assolutamente sì io infatti anche durante le mie cliniche mi sforzo continuamente di di consigliare le persone di pensare quello che dicevi tu prima cioè di ascoltare la chitarra nel mix perché è un esercizio fondamentale prima perché si suona secondo me meglio si sente si è dentro la musica e quindi anche gli auricolari se sono di buona qualità se sono tarati bene ti aiutano tantissimo si aiuta a regolare gli effetti perché soprattutto gli effetti ambience tu hai usato parecchi riverbero però quei riverberi all'interno di un mix non è che sono a volte così presenti ti permettono di diciamo di stemperare il suono all'interno del mix e quindi non creare uno stacco della chitarra che a volte può essere evoluto però a volte no cioè nel senso che se tu vuoi creare un pad all'interno di un ambiente ma questa sensibilità la sviluppi solo esclusivamente quando hai la percezione istantanea di quello che succede a tutta la band non al suono della chitarra sicuramente anzi i suoni vanno sempre testati in un ambito realistico perché finché uno è da solo carica delle frequenze che forse magari poi vengono assorbite dagli altri strumenti e poi anche i posizionamenti sul piano sonoro io ho sempre un clean boost su ogni suono per cui ho sempre questo scarto di 3 dB che mi può portare un posizionamento differente per cui questo cioè il fatto del per esempio in studio questa problematica non c'è perché io suono e poi è il fonico che alza abbassa nel live invece noi dobbiamo essere fonici di noi stessi anche se c'è un fonico che però solitamente segue di più la voce la batteria quindi la chitarra la dà quasi per scontata quindi se noi siamo bravi ad avere il power che ha lo stesso impatto del del suono pulito e poi il solo esce il giusto ma senza essere devastante quindi tutte queste cose rendono il lavoro del fonico più gradevole e ripeto evita di mettere compressori strani di tenersi anche più fuori nel mix invece uno ha un volume del solo devastante uno abbassa e il risultato è che nelle ritmi partire di ping non si sente più perché poi non è che uno dice aspetta che adesso riposiziono cioè in generale io vedo a volte si fa anche un po' una media così insomma per cui comunque se noi siamo bravi anche a gestire anche i rumori a chiudere il volume della chitarra o senza usare noise gate però ad avere dei suoni che non mandino in larsen perché a volte c'è anche questo problema ti suona spesso in cuffia poi mette dei gain stratosferici e quando è su un palco fischia anche stai dicendo delle cose la bibbia del chitarrista che non è il chitarrista digitale ragazzi cioè è che il digitale da un certo punto di vista ti obbliga a pensare in questo modo se vogliamo e soprattutto diciamo il chitarrista moderno all'interno di un determinante contesto deve pensare effettivamente in questi contesti tra l'altro il discorso dell'alzarsi il volume di cui citavi prima è anche un problema perché molto spesso il problema dei problemi mi deve vir fuori questa frase che ormai mi identifica il problema dei problemi è che noi facciamo il sound check il batterista solitamente suona al 50% poi chissà perché appena parte solitamente anche quello non è un atteggiamento professionale insomma perché comunque poi uno l'impianto lo tara su quello esattamente e questo penalizza tutto perché poi il fonico che aveva fatto tutto un certo tipo di lavoro deve rifare tutto da capo e si spazientizza cioè a volte poi c'è chi cataloga certi batteristi come magari non virtuosi però sono lì perché non si sa perché io invece posso dire che i grandi batteristi con cui ho lavorato come Maurizio De Lazzaretti Nel Emelotti Elio Rivagli Max Furian insomma poi tanti altri hanno nella loro bravura a parte la preparazione tecnica e tutto quanto ma la costanza cioè io quando su otto ore di prova ancora sento il cassa e rullante nella stessa maniera vuol dire che il batterista si sta facendo un mazzo così cioè non è automatico per cui a volte se non avviene questa cosa qua succede che poi uno cambia i livelli e poi quando uno dà tutto ti esplode la cuffia per cui cioè la costanza non si vede nella canzone da 3 minuti e 40 si vede su una sessione di prove magari da 8-10 ore assolutamente mi fa molto piacere che si discuta di questa cosa perché io ci tengo in particolar modo tu perché fai chiaramente un lavoro di un certo tipo io non faccio il lavoro che fai tu perché sono più carista da situazioni da piccoli locali però assolutamente ragazzi l'atteggiamento che io dico sempre essere dei professionisti non vuol dire essere professionali sono due cose sono due cose completamente diverse come detto giustamente Luca ci sono dei musicisti che magari apparentemente non sono granché però sono persone che hanno un comportamento ineccepibile del vivo non sono lì che si mettono lì a provare il batterista che si mette lì il chitarrista che sta lì a provare cioè il chitarrista arriva lì chitarra pronta tutto perfetto collegato non c'è rumore non ha niente queste sono cose che effettivamente ci parlava prima di carriera secondo me a livello di produzione vengono tenute in considerazione altissima molto di più che non magari i virtuosismi o cose di questo genere c'è un po' di tutto insomma per cui io però penso che sto parlando di chitarra che se un chitarrista sa accompagnare bene ha sicuramente molte più opportunità lavorative e poi si diverte di più cioè adesso in un qualsiasi disco o tour di musica pop italiana ma anche internazionale la percentuale di assoli e di ritmi che è tra 95% e 5% io posso dire di essere stato fortunato nel tour di ultimo c'era lui stesso Nicolò che veniva a dirmi ma non possiamo allungare un po' il solo dico sei adesso io ti faccio un monumento perché non succede però in ogni caso a parte questo episodio che è gradevolissimo però in generale se uno si rompe le palle a fare le ritmiche e non vede l'ora che arrivi là solo è meglio che faccia un altro lavoro perché io invece mi diverto tantissimo a fare le ritmiche anzi ultimamente qualcuno te lo può confermare in queste jam session che proliferano così per cui a furia di fare a soli quando mi hanno chiesto all'ennesima collaborazione ho detto ma posso fare le ritmiche ho detto sicuro sì sì e mi sono divertito un casino perché almeno suoni il pezzo dall'inizio alla fine esperimenti anche i suoni perché poi fare le ritmiche non vuol dire fare uncia uncia cioè c'è tutto un lavoro di progettazione del tessuto armonico delle sonorità della coesistenza di parti di chitarra anche di capire quando è il caso di doppiarle e se si doppiano di ricordarsi esattamente cosa si è fatto nella parte precedente perché ha voglia di fare il figo a fare tutte le variazioni ma quando poi ti dicono doppiamo dici ah ok allora fammi risentire per cui a volte bisogna essere anche molto strutturati per quello per cui anzi poi adesso a volte anche troppe variazioni sono fastidiose per cui divertirsi nel fare i ritmi che è veramente oro per un chitarrista perché se no uno rimane frustrato anche perché poi nessuno ci darà mai lo spazio necessario io a volte ci scherzo c'è chi dice ah perché non fai più a soli ma io mi diverto tantissimo così e comunque non lo decido io per cui se non fossi coinvolto in tutto il settore il ritmo non sarei neanche così amico dei miei compagni di squadra perché comunque una band che suona bene vuol dire che è in coesione con il bassista il batterista il tastierista se invece uno è solo solista dopo un po' posso certificare sta sul cazzo a tutti perché comunque gioca sempre da libero però cioè l'arrangiamento è l'arrangiamento quindi non si scherza cose maturate in praticamente 35 anni di carriera sono assolutamente assolutamente d'accordo Luca sei uno dei miei chitaristi italiani preferiti dopo Marco Fantono ovviamente c'è anche una bella c'è anche questa vedo queste cose Matteo Dalloca sei segnato ormai invece Andrea Noe che è sempre un fedelissimo della Fantom domanda per Luca per improvvisare ti canti le cose che suoni o cosa pensi mentre improvvisi questo mi interessa perché io ho le mie idee cosa penso penso che bisogna levarsi da tutti gli schemi cioè bisogna studiare tanto e poi dopo abbandonarsi un po' a quello che che ci viene voglia di fare per cui più che cantarmi le cose io a volte chiudo gli occhi se chiudo gli occhi va tutto bene cioè comunque prendo la strada giusta se sono troppo vigile il lato razionale prende il sopravvento quindi se devo improvvisare magari sono un po' meno ispirato però bisogna aver studiato tanto e quindi avere anche una varietà di linguaggio insomma io penso che sia poi molto importante saper destreggiarsi bene tra tante armonie cioè non imparare a suonare nessun accordo solo ma a volte anche cambi di accordi insomma quella è la cosa più più complessa e sicuramente più appagante ok allora visto che abbiamo parlato di di suono improvvisazione sa che l'ora che ci fai qualcos'altro cosa dici faccio un brano assolutamente sì tra l'altro Fabriz dice cosa significa doppiare doppiare si usa spesso in incisione per diciamo le parti di chitarra soprattutto le parti ritmiche si fanno due tracce che poi una viene messa a destra una a sinistra si fa uno stereo però il fatto di diciamo le tracce non sono proprio perfettamente sincronizzate rende la sonorità molto ampia però bisogna sapere come diceva giustamente Luca quello che si fa perché altrimenti rifarlo uguale è un casino poi c'è anche un fattore alienante secondo me che è pazzesco cioè quando tu suoni con te stesso devi avere bene la consapevolezza di dove sei posizionato cioè per esempio io di solito faccio la prima centrale poi la faccio mettere a sinistra e poi faccio l'altra a destra quelle rare volte che qualcuno ha fatto il contrario tu suoni credendo di essere quello di sinistra invece sei quello di destra e quindi sei portato a magari andare un po' più avanti perché senti l'altro che tira avanti invece in realtà sei sempre tu che stai andando per i cavoli tuoi e poi c'è un fattore di gestire bene gli ascolti quindi anche questo cioè il lavorare in studio prevede avere un ascolto confortevole in cuffia perché se no si rischia poi di suonare in maniera fuori potrei fare sanderla vediamo assolutamente ce l'hanno chiesta comunque sono anche questo mesi che non anche voglio sottolineare l'importanza dell'accordatura anche questa è una di quelle cose che non è mai da sottovalutare è una take quella chitarra sonata allora questi ambience qua avere la chitarra stonata è un supplizio vediamo potrebbe essere questa a a Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. , per esempio, e le differenze. abbiamo coperto, abbiamo coperto. lunedì a tutti. Marco, è un personaggio. importantissimo che ha portato il nome il brand italiano in tutto il mondo ok sono pronto il nostro corso gratuito in tutto il mondo 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 grandissimo grandissimo fantastico fantastico e poi conosco tutti questi pezzi quindi sono veramente bellissimi quindi rinnovo ancora una volta e non mi stancherò di ripeterlo di comprare l'album di Luca perché è veramente bellissimo Sunderland grazie ma anche il libro anche il libro questo estate da leggere sotto l'ombrellone da leggere sotto l'ombrellone ammesso di andarci sotto l'ombrellone dentro i gabbi di play speriamo di no perché sono a 5 c'è mi raccomando mi raccomando voglio tanti like questa sera perché siete stati tantissimi io vi ringrazio tutti quanti se avete piacere iscrivetevi al canale e magari mettete anche il click sulla campanella per ricevere le notifiche perché appunto avremo ancora tante interviste importanti questa sera un ospite veramente eccezionale un amico che è il mio canale si viva che è Luca Colombo 66 mi sembra ecco quindi scambiamoci 1966 esatto fondiamo 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 i canali di youtube perché noi abbiamo bisogno e la condivisione per noi è fondamentale perché così cresciamo tutti esatto cresciamo e prendete condividetene tutti effettivamente io ringrazio tantissimo Luca per questa serata vi ringrazio a tutti e vi aspetto la settimana prossima a Fantoma Marco ringrazio anche a te e dai teniamoci in contatto e speriamo di vederci di persona e un saluto a tutti quelli che ci hanno seguito stasera perfetto grazie mille Luca grazie alla prossima grazie 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 a tutti